ragazzi sono davanti alla scuola oltre lingua con ericottero ecco qua la scuola dove insegna la nostra ericottero, la nostra gnocca di bambu di oggi gnocca di bambu? te hai chiesto? non ho il secondo gimo di bambu, il spiego di bambu è un po' ottimo il Gsta è molto bravo ma non è tanto ma non è tanto però è molto estante oggi ahhh è dropita che cosa è andato? assedda cosa faceci? ci vi offriamo ora vi facciamo unaospedizione anche per una cosa cosa sia laape di bambu? cosa ti piace? cosa vuoi mangiare ericottero? Perchè? Ah, ho pensato qui? Ok Ah, che cosa sia bene? Prendiamo l'antipasto di salumi e formaggi artigianali Poi, spaghettoni di ultimare Vino bianco della casa E' suave E' suave di Yuma E' unico E' unico Buono Questo è il vino di Soave Che non sta sponsorizzando il video Ma Soave ha girato un music video Quello di Tsubasa E' arrivato il cibo E' unico E' unico E' unico Ciao Il è stato l'antipasto L'antipasto E' unico E' unico E' unico E' unico Buon appetito ragazzi Buon appetito Assaggia anche io Prosciutto E' unico Ecco E' unico Il Sala E' unico E' unico E' unico E' unico Cosa facciamo? Io farei un po' di shopping Cosa devi comprare? Niente Ma voglio comprare qualcosa C'è una storia di Salvi Questo è un parfum Oh, è bello! È bello! Questo è bello! Questo? Questo è bello! Questo è bello! Questo è bello! Questo è bello! Vado a vedere! Questo è bello! Stiamo scegliendo i vestiti per ericottero! È un po' di nobino! C'è un po' di nobino! Ma questa è bello! È bello! È un po' di nobino! È un po' di nobino! Non, non ho detto mai! 42 euro! Cosa? Cosa? È un po' di nobino! È un po' di nobino! È veramente bello! Cosa è bello! Cosa è bello! Questa è bello! Questa famiglia è di nobino! Questa è lamingla! Questa è inizia! Questo è bello! Non vedete la piazza! Questo? Questo è.... Questo è... Non c'è? C'è questo? Non c'è... C'è un colore. C'è un colore. Ma è un po' straccio? Forsse per te. Non c'è un po' di chiudere. Erika, prendi? Ma per favore, sei? Ma per favore. Ah, è un po' di chiudere. Questa è la mia braccia. Un po' il rock? Cosa anche per questo. La jacca Ma sembrava. Mi sembrava che ora faccia il bordo. Il tratta di un bacco in sulle Ha come riguardo! Vi ci sono piaciute. Vi ci prendi. Non è bello? Ha come riguardo. Ma più di più? Sì, sembrava molto bene. Ehm... Alla cosa e questo e questo. Ok. E ora è vendita. 50% off. E questo? E questo? Grazie. Questo è questo. Questo è quello che mi piace. Questo è questo. Questo è questo. Questo è quello che mi piace. E questo è quello che mi piace. Sì. 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 Ciao. Ciao. Grazie. Ci siamo qui con Ericottero. E siamo a Padova. Sei divertita? Sì. Guardate che carina la macchina fotografica di Eriko. È piccola. Oggi abbiamo fatto un po' di video. Ho comprato i biglietti per andare alla stazione e venire a Padova. Gentilissima. Grazie a tutti. Sì. 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 Sì, ora è l'ora di riuscire! Ciao! Sì! 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 Vuoi un caffè? Sì! Grazie! È ancora fame? No, però sembra buono Grazie! Eriquotero, siamo sul canale Akatsu, se vuoi dire qualcosa a chi ti sta guardando Ma che katsu stai dicendo? Brava! Giustamente! No, vabbè volevo sapere chi è il tuo cantante preferito? Però adesso, cioè cambio sempre, ma adesso perfume Perfume? Pensavo che dicessi me La mia musica Ma dovete sapere che ericottero canta lirica Ah, sei bravissimo! Wow! Sì! Sì! Oggi ci siamo incontrati con Eriquo Comunque abbiamo fatto un po' di video Ci siamo divertiti un sacco E io ho fatto un sacco di shopping Quindi potrete vedere sul canale di Eriquo Abbiamo fatto una specie di date Grazie Grazie Ho fatto una prima Non mi sembra così E io mi voglio andare a Bangkok In Bangkok? In Bangkok? In Bangkok? In Bangkok? In Thailand? In Trento? In Trento? In Trento? Più vicino La parola che più ti piace in italiano Chichicoco Simpatico Chichicoco Se penso veramente Mi viene un'altra parola Ma non so adesso Helicottero Helicottero Ci manda no Vabbè direi che questo è proprio Un video a cazzo abbastanza fatto bene Fatto bene? Sì Ah, volevo dirti una cosa C'è stato uno scandalo politico recentemente Non so se ne hai sentito parlare Di questo consigliere comunale La prefettura di Kagoshima Che è stato Eh sì l'hanno preso Perché andava in autostrada Al doppio della velocità Cosa ne pensi? Di tutto ciò Ma in Giappone alla fine Spesso succede queste cose Che una persona che lavora per lo stato Per la città Che in realtà Fa molestia Beve Poi guida Poi uccide una persona Quindi Sai cosa ha detto Alla Sakishinbun Il motivo di questa Corsa sfrenata In autostrada Il consigliere di Kagoshima Ha detto che va alla diarrea Sì 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 Ma si chiama Kagoshima Ken Grazie Grazie Ciao 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 E adesso Ericottero viene a trovarci a Bergamo Sì Adesso? Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Shoebostiana Serafini nei maggiori digital store